Buongiorno cari amico, da Paolo, il giorno di oggi, che cosa faccio? Ho portato queste attrezze, guarda, TRX, oggi lavoro, quattro esercizio, ho lavorato la gamba, anche il gluteo, ho fatto un esercizio pal tricipiti, un altro pal tricipiti e per ultimo finisco con uno per vettorali, mi raccomando, con queste attrezze, lavoriamo la resistenza, la forza e l'equilibrio. Ok, prima di iniziare, iniziamo con un pochino di mobilità articolare, torno indietro, incrocio, incrocio e accendo lentamente. Perfetto, cambio. Oggi fa un vento qua oggi. Perché lo stimo per questa malanera? Lo stavo solo con la canotilla. Ok, andrò lentamente. Salgo, nuovamente. Ok, nuovamente. Muevo un pochino le braccia. Indietro, indietro. Avanti. Ok. Iniziare con il nostro primo esercizio. Per la gamba. Ok, si va. Ok, il nostro primo esercizio, guarda, Ora, ora faccio il scuote, ma faccio una modifica. Salto, 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 salto. Guarda la postura. La schiena sempre diritta, diritta. Eschiena diritta. Petto avanti. Si, che il giro che non superi la punta del piede. Voy a fare il nostro postura. Tras. Salto. Tras. Tras. Ok, ok, ora iniziamo. Guarda con la postura. Che voglio fare? Io faccio il salto, salto, salto. Ok. Uno. Due. Tre. Cinque. Sei. Siete. Otto. Nove. Dieci. Non più. Ok, guarda. Sempre la postura. Conto. Uno. Due. Tre. Mi piace. Mi piace lavorare con queste treze. Mi piace. Adesso. Questo ejercicio. Lo repito. Nuevamente. Però, le voglio fare una modifica. Voy a scuote. Le faccio il scuote. Salgo. E abro. Così lavoriamo anche il aduttore. Ok, si va. Poca pausa. Poca pausa oggi. Eccendo lentamente. Tras. Salgo. Abro. Eccendo. Salgo. Abro. Eccendo. Lentamente, lentamente. Lento, lento, lento. Che il ginocchio. Non supera la punta del piede. Tras. Con me, con me, con me. Tras. Lento, lento. Lento, lento. Tras. Lento, lento. Eccendo. Contra due. Adesso conto sei, 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 sei. Uno. Due. Tres. Cuatro. Vaya. Ah, come mi piace questo. Come mi piace questo. Adesso. Vamos a fare una modifica. Vamos a cambiare l'esercizio. Voy a fare questo. Avanti. E dietro. Encrocio. Tra. Siempre con questi a tre. Tres. semifissimas. En youtube. Si ancora no te estai inscrito a mis canales, inscríbete adesso. Próximamente grande sorpreso. Tres. 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 Un altro punto. Cinque. Sei. Siete. Otto. 9, 10, 2 in più ok, perfetto adesso cambio di piedi, cambio, cambio cambio, si sente quale equilibrio è la forza della gamba ok, si va 3, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5 Un bel pio, un bel pio io mi concentro e faccio anche qui del conto ok, come va al ejercicio, 60 no? 60, 60 un pochino, 60, 60 potete vedere un pochino di acqua ok, poca pausa, poca pausa questo anno ti raiunce tutti i nostri proiettivi e tu inizi a allenarti a questo, con concienza, testa, bolia ok, il prossimo esercizio, questo esercizio sembra tipo il squat tipo il squat, tipo il baleato, tipo il mountain climber guarda, avanti, avanti, pure esercizio di gamba, guarda da basso, su, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no, 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 no come mi piace come mi piace ah, 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 ah lo repito nuovamente, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito lo repito nuovamente ok si va, si va, si va, si va si va, si va, si va a un guarno a un guarno ah, oia quella gamba se diventa tosta e dura dura, dura dura, dura como rocci ok adesso Ok, questa è la seconda serie Inizio, va 2, 3, 1, ricrocio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Ok, una piccola balza, cambio di calza Ok, giù va, giù va L'ultimo è 12, perfetto Stiamo quasi finalizzando questo esercizio per gamba e glutei Faccio il primo con che è iniziato e dopo cambiamo a lavorare la parte superiore Uno di bicipiti, uno di tricipiti e un altro di pettorale Se lo potete fare a casa, in palestra, al palco Questo prezzi lo consiglio, lo consiglio Costa poco e è utile e si può portare anche in vacanza Ok, si va, si va, si va come il primo che abbiamo fatto Il primo abbiamo fatto 10, normale, normale Cuote normale, basta, si va, si va Uno, due, tre, quattro, cinque, sei L'ultimo, ultimo Ok, perfetto Poca pausa, poca pausa E poi l'ultimo Se pare, con il che abbiamo iniziato Si è iniziato Uno, l'uomo Sopore Rimaggio Queste Abri la gamba E scelgo dove ci voglio 1, avro, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ultimo, ultimo, ok, adesso facciamo una pausa, e finalizziamo con l'esercizio dei tricipiti, anche pettorali, ok, adesso andiamo con la parte superior, faccio una cabola, si va, si va, si va, si va, ora facciamo un tricipiti, 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 pettorali, nostro primo esercizio del tricipiti, importante guarda, la postura, facciamo questo esercizio, tra, 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 repito, due volte, concentrato, e lento, postura del corpo, guarda, postura del corpo, mi aiuto con il tricipiti, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, ultimo, e 10, 60 il lavoro, 60, stiamo quasi finalizzando il nostro allenamento, abbiamo fatto la gamba con il gluteo, adesso, bicipiti, tricipiti e pettorali, si puoi scrivere, Paolo, sta molto forte il allenamento, sta molto facile, stiamo facendo una parola, adesso, Paolo, spagnolo, italiano, stiamo facendo confusione, ok, la nostra seconda serie, sempre bicipiti, bicipiti, talone, 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 mi lascio andare, schiena di lì, spesso avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimo, e 10, ok, stiamo quasi finalizzando, questo esercizio con il IRX, lo consiglio, guarda, lo consiglio, lo consiglio, sempre in forma, definiti, al top, ok, adesso, farei, un esercizio di tricipiti, guarda la postura, in punta, 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 piego, 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 vale, piego, e faccio questo, 1, 2, lento, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 20 8 9 10 21 ultimo ultimo perfetto stiamo quasi finalizzando il nostro esercizio per il giorno di oggi un esercizio utile la casa in palestra dura poco per ultimo per ultimo vamos a finalizzare con questo esercizio del pectorale sempre con il TRX ok importante la postura podemos agliare un po' i piedi braccio alla stessa misura del palestra uno uno due tre tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ok me quedo ultimo 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 uno due ultimo ultimo uno tre 1, 2 e 3 Molto bene, molto bene Per finalizzare va a trovar un pochino di stress Un pochino di mobilità Decente lavoro con il CRX Accordi di lavoro Ora ti servo a tutti Ma細peri Non si fai Con administrative Non si arriva al trasguarlo Tu devi muovere Sicurare muovete un pochino muovete un pochino muovete per il giorno di oggi abbiamo finalizzato grazie per guardare questo canale di Górez Pablo